Intervenuto stamattina a Radio Anch'io lo Sport. Il neopresidente del Palermo Paul Baccaglini ha risposto anche ad una domanda in chiave. Mercato riguardante i Viola. Gli è stato infatti chiesto se Nestorovski fosse già stato venduto. Alla Fiorentina, questa è solo una speculazione di mercato. Non c'è assolutamente nulla di concreto. Ilia fa parte della nostra rosa e puntiamo molto su di lui. Grazie. Grazie.